salve a tutti dal rosa nero di wolverhampton allora questo video parlerò di due di due aspetti di due di due megatitoli ma solo verso spiacelli e il pre partita di palermo genua da dove parto prima allora il ma solo verso spiacelli allora perché a palermo se stai sul cazzo dall'inizio morirai stando sul cazzo e noi abbiamo odiato tanti portieri però si dico io gli perdonavamo tutto stessa cosa ma solo le sono uscite a farfalla che denotano una certa mancanza di tecnica per un portiere che non se lo filava nessuno è venuto per fare il secondo a palermo era bravo con i piedi un buon portiere di serie c che in b può fare anche buona figura però non è non è per non puoi fare un progetto attorno a ma solo pigliacelli sì perché odiamo pigliacelli ma che va fatto tutti quelli esperti che ho sentito a sette gold a zona vostra forza palermo punto it tutti gli ospiti hanno detto che tutti gli ex portieri hanno detto che un ottimo portiere l'ansia che perché usa i piedi va bene ma importa sa parare non è uno che solo bravo coi piedi e poi non sa parare e nelle uscite è fantastico che era il punto forte di belagotti belagotti non è cosa era bravo le uscite il senso della posizione un portiere all'antica diciamo invece questo pigliacelli ho visto che è un portiere moderno spalle non troppo larghe alto altissimo ed è capace di di prendere la palla è capace di acchiappare mia moglie mi fa le... vai via no, non so bloccare i video e rimetterli, allora invece Pigliacelli, Pigliacelli è bravissimo coi piedi e sa parare benissimo ma noi a Palermo abbiamo la presunzione che vogliamo portare il più forte del mondo, anche in questo momento è Allison per me grandissima parata ieri col Napoli e ha preso 4 gol, ecco a Palermo era colpa pure di Allison se si pia 4 gol da un'altra squadra è colpa come nel caso dell'Ascoli è colpa del portiere ho sentito dire, ho parlato al video precedente che ogni statistico ha un tiro su 2 gol ma che cazzo di colpa ha il portiere, se no la squadra il centrocampo non fa filtro e sto minchia di Nadel Ceraro ci mette il piedino per metterlo fuori 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 contesto ci mette il piedino e c'è sempre sta minchia di deviazione ma che minchia ne colpa ne ha Nadel Cerro cosa ne ha colpa ma solo che avrebbe potuto fare ma avete visto cioè Onana ti prende se è in mezzo in pagella e ha fatto una gaff perché ha fatto altre grandi parate noi ci scordiamo un po' pure di sgarrare una volta su un 3 a 0 contro il Torino che ha fatto che per la dunque siamo sicuri che ha sgarrato cioè il portiere non vede partire il pallone diciamoci così e praticamente e poi arriva il gol praticamente arriva il gol e nulla su 90 minuti noi ci ricordiamo una mezza ma neanche si può dire mezza papera diciamo noi proprio che ormai ci sta sul cazzo ci sta sul cazzo e quindi ma solo ha rinnovato e quindi deve giocare titolare ma ce lo siamo dimenticati e adesso è uscito a cazzo di farfalla è un buon portiere in porta ci può stare è bravo coi piedi è da sicurezza ma per me pure pigliacelli da sicurezza qualcuno ha sentito dire non ha sgridato i compagni ma voi che cavolo ne sapete di come funziona a me è un portiere che però mi piace e ancora deve fare la sua papera dell'anno e che un portiere una volta all'anno fa la sua gaff e immagino quando sarà spero che avrà parato pure un rigore nel frattempo allora niente allora secondo capitolo prepartita di Palermo-Geno almeno un pareggio perché già due sconfitte consecutive almeno un pareggio ah ritornando a pigliacelli che colpa è a pigliacelli se è Gondò che la cosa è vita vabbè su Menezzi ditemi un portiere al mondo che avrebbe parato il tiro di Menezzi vecchia volpe Menezzi ditemi sul pallonetto di Gondò addirittura sul traversone sul traversone di Gondò praticamente sulla verticalizzazione di Gondò ha avuto tutto il tempo di mettere la sua sinistra e di mirare e tirare quale portiere al mondo può arrivare nel secondo palo in verticale nessuno nessuno al mondo con quella potenza e quella precisione nessuno al mondo noi dovemmo dire gli alle 4 è una del Ciaro o si sveglia o si sveglia cioè ora capisco perché sto rimpiangendo Gironne rimanavamo con Gironne si pigliava solo sale e si metteva un altro centrale tipo Barba però purtroppo abbiamo iniziato un pre-ritiro con un allenatore e poi ne è arrivato un altro pazienza allora ritornando a palo emogeno qua ci vuole allora qua io ho sentito oggi Marco Gullà da Sporti da Radio Sportiva dire addirittura come esci titolare e non credo che sia una pazzia perché è l'unico incontrista vero che abbiamo perché Bro è fermo non lo so se non credo che riuscirà a recuperare quindi se non riesci a recuperare è l'unico realmente che corre in teoria dovrebbe essere Segre ma proprio quello duro e puro convinto cazzuto che morde le caviglie e Gomes che sarà anche giovane ma sei bravo è bravo buttalo nella mischia e come si vede si punta giusto poi Saric deve per forza giocare perché un regista è un regista solo se impara se vede come si gioca se vede come va tutta la squadra non esiste deve giocarle tutte eppure Saric sono stati pagati un sacco di soldi e devono giocare non si sbloccano se non li fai giocare è una legge purtroppo ha fatto bene Corini a fare un amichevole con la regina perché o li fai giocare o non li fai giocare e nulla io spero che rientra Marconi dovrebbe rientrare così si crea quella coppia Naldo e Ceraru Marconi che ha subito solo un gol in due partite senza Marconi sei gol in altre due su quattro partite totali l'assenza di Marconi è pesato anche perché ci vuole un minimo di spina dorsale nello scorso anno la catena Buttaro e Marconi almeno in difesa e io spero un valente più avanti perché l'alchimia con Brunori è impossibile da mettere in soffitto è troppo no troppo bella questa alchimia ha spese di Elia che può benissimo entrare da subentrata che quando è entrato è entrato sempre molto bene devo dire poi alla fine che cosa abbiamo abbiamo il Genoa è una squadra meravigliosa ho visto il primo tempo di Genoa Parma adesso non ricordo bene penso Parma Genoa ed era tanta roba squadra è molto allegra dietro ma quando è il Parma hanno preferito giocare questo è incredibile visto le prime giornate vedo un calcio molto propositivo poco tattico tanta roba quindi è complicato un bel pareggio bisogna affidarsi un po' alla vecchia guardia quelli nuovi un mist troppo nuovi nella regina troppi vecchi contro l'ascoli una bella via di mezzo e consoleri anche vita a me piace molto come è entrato si vede uno di esperienza stiamo parlando di uno che anche se ha 25 anni forse ha iniziato prestissimo quindi è tanta roba un bel pareggio per poi fare la sosta e fare almeno un amichevole vera e capire come va perché adesso praticamente il campionato del Parma realmente inizia contro il Frosinone che è uno squadrone una partita troppo sentita anche da sottoscritto da quando siamo falliti ho sempre pensato che del Catania me ne frega fino a un certo punto quello che importa davvero è il Frosinone ma non tanto per i palloni in campo quelli sono dei deficienti hanno buttato il pallone è proprio tutto il contesto che si è creato con gli stirpe che veramente hanno fatto capire di essere veramente persone per me poco valide che hanno fatto altro che minacciare tutti i giornalisti di Palermo che hanno scritto la qualunque una cosa poco elegante con la paraculagine di Criscitiello che mi ricordo sì ok hanno fatto un bello stadio assolutamente sì però demolirlo è il minimo sportivamente parlando quindi amici miei cari iscritti se non l'avete ancora fatto iscrivetevi per favore così vedo che questo lavoro è apprezzato è un passatempo io non me ne frego un cazzo se con il mio linguaggio scurrile mi tolgono a parte che non ho messo nessuna carta di credito non so manco come funziona se mi tolgono la monetizzazione me ne sbatto la minchia lo faccio per gioco infatti sto pensando di aprirmi anche un canale che parla di cinema e serie tv ma non come modello vittor laslo 89 88 è lui io sarei 89 vittor laslo 89 e magari un canale che parla di auto potevo recensire la mia auto inizio con questa comunque detto ciò ci potevo pensare prima questa è la tezza auto che è cammino in uk anzi no la quarta detto questo io sarebbero stati quattro vittor nulla è una partita complicatissima sfida tra bombe e di razza eh già brunoni da una parte e la padula dall'altra non vedo l'ora giuro non vedo l'ora vorrei vederla con un amico non conosco nessuno che ti fa palermo qua qua su eh nulla non so bene parlare del genere ho visto la partita sono fortissimi ma ancora è troppo presto che vi posso dire chi sono gli avversari è una partita complicata questo è stato almeno un pareggio così siamo 12 o 13esimi si mantiene questa cosa e poi si inizia un campionato ci vuole pazienza come ho detto nel video precedente e comunque forza pigliacelli sempre grazie a tutti ciao